Ciao ragazzi, qui è Nonda 6 tra la Stragon e quest'oggi sono richiesto di vari utenti, posto il deck profile del Darkwood, ma soltanto il main deck e non l'extra deck perché è incompleto. Quindi direi di cominciare subito, 3 grafa, 3 snow, 3 blue, poi gioco doppio silva, tour, poi gioco un arcidemone trance e un favoloso corvo. Io mi trovo abbastanza bene in tale maniera e niente potete giocare anche 2 arcidemone a posto del corvo. Poi magie, spell, gates, 3 gates, 3 affari, 3 dragged, 3 upstart goblin, poi ovviamente card destruction, poi gioco un cancello del mondo scuro, una foolish, una allure, poi ivy, rebord e darkwood, un store rebord. Poi trappole, gioco di minecrash, 2 virus devastatech e un virus eradicatore come cavolo si chiama. Vabbè, questa è la mia lista del Darkwood, la metterò anche in descrizione, lasciate un mi piace, se vi è piaciuto il mazzo, un commento, e... cioè io lo gioco così, poi credo che sia perfetto così. Iscrivetevi al canale, seguitemi sulla fanpage di Facebook, per qualsiasi cosa potete chiedere. E vabbè ragazzi, arrivederci e al prossimo video. Grazie. 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 Grazie.